Buongiorno, buongiorno telespettatori di Prima di Tutto, benvenuti. Oggi è sabato 17 novembre, come sempre questa mattina leggeremo insieme i titoli principali dei quotidiani in edicola, anticipandovi fin da subito che la città non riusciamo a leggerla insieme, quindi leggeremo insieme il centro e il messaggero. Detto questo, partiamo immediatamente a vedere qual è l'apertura del centro quotidiano d'Abruzzo, anticipandovi anche però che nella seconda parte si parlerà di una bellissima iniziativa che va a finire in Nepal. Ne parleremo dopo più approfonditamente con delle immagini bellissime di un docufilm che verrà, è stato già proiettato, ma verrà ulteriormente proiettato anche a Teramo e vedremo come è stato strutturato insieme all'autore. Quindi andiamo a leggere subito l'apertura del centro che apre con schiaffi agli alunni, professore a processo, docente di Corropoli accusato di abuso di mezzi di correzione in una scuola media. Per quanto riguarda i titoli, immediatamente sotto la testata, ricordata la strage nazista di 75 anni fa a Limmari, 128 morti, parla Virginia, l'unica superstite. E ancora l'elenco in Abruzzo, scuole sicure, stanziati, finanziamenti a 21 comuni e ci sono anche alcune scuole del Teramano. Poi verso le elezioni di Sabatino, coordinatore del Partito Democratico, ex presidente della provincia per Legnini, alleanza larga in Abruzzo. E ancora nelle cronache, il patron del Teramo, furto nell'azienda di Campitelli, rubati biscotti, pesce non tracciato, maxi multa, una pescheria teramana, migranti senza stipendio, gli operatori del CAS di Alba Adriatica. E ancora vediamo qui una bella fotonotizia in regalo con il centro, in un libro La Cucina Abruzzese, delle nostre nonne, tutto da imparare. E ancora ad Alberto, il sindaco Gian Guido Alberto, ricostruzione più personale. Il sindaco incontra gli ordini professionali e le imprese per accelerare le pratiche. Abbiamo visto ieri mattina l'avvio del primo tavolo operativo permanente in cui l'amministrazione appunto si è incontrata con tutti gli attori a vario titolo interessati dalla ricostruzione post-sisma, presupposto per rendere questo tavolo operativo appunto è destinato a risolvere problemi pratici, quindi un'evoluzione della considerazione e delle riflessioni dalle quali poi potranno scaturire soluzioni più immediate. Andiamo ad approfondire le pagine che riguardano l'Abruzzo, l'eccidio di Limmari. Sono passati 75 anni, l'Abruzzo non dimentica quei 128 morti, c'erano anche 34 bambini. Le parole di Raimondi, Legnini, Canzio, Sabatini e di altri personaggi di spicco rievocano la strage degli innocenti. E nel Sacrario tutti i nomi delle vittime, il Sacrario che c'è a Pietranzieri che ricorda proprio quel 21 novembre del 43. La strage di Limmari, veramente un bruttissimo ricordo. Parla Virginia, l'unica superstita, aveva 7 anni, fu colpita 5 volte ma si salvò sotto il corpo della mamma. E ancora vediamo sulla sicurezza le 21 scuole finanziate, un milione di euro per sistemare appunto i sistemi antincendio, fondi da 50 a 70 mila euro ad asili elementari e superiori abruzzesi. La Regione apre il secondo bando che scade il 26 novembre per quanto riguarda Teramo. 50 mila euro alla scuola dell'infanzia di via Brigiotti, a quella della gammarana, a piano solare e a colle atterrato. Ciascuna 50 mila euro è questo l'importo destinato alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e secondarie. Mentre per quanto riguarda l'adeguamento del sistema antincendio, non ci sono scuole che riguardano l'amministrazione provinciale del capoluogo Teramano. Ancora senza investimenti l'Italia a forte rischio, Francavilla, l'avvertimento lanciato da Sbarra, numero 2 della CISL, alla conferenza Abruzzo-Molise. Andiamo avanti, superiamo le pagine del nazionale e andiamo a vedere immediatamente i titoli che riguardano la cronaca locale. Vediamo quali sono le aperture del centro per quanto riguarda l'Abruzzo verso le elezioni di febbraio. Alleanza larga per rilanciare l'Abruzzo di sabatino, Partito Democratico. Legnini deciderà nella prossima settimana. C'è grande movimento tra gli amministratori del territorio e ancora il centro-destra si muove. Pagano cena con Berlusconi e incontro con Lega e Fratelli d'Italia. Vediamo qui Silvio Berlusconi e Tajani all'incontro avvenuto a Palazzo Grazioni. Intanto Salvini li vuole fare anche da noi. Il Movimento 5 Stelle mette all'angolo la Lega Abruzzo sul caso Inceneritori. Il Movimento 5 Stelle abruzzese pretende spiegazioni dalla Lega regionale dopo le dichiarazioni rilasciate dal Vice Premier Matteo Salvini. E quindi torna di attualità la questione inceneritore. Andiamo ancora avanti e leggiamo quali sono gli altri titoli che riguardano l'apertura di Teramo, ricostruzione, lumaca, dal Berto. È il momento di accelerare il tavolo in comune con l'ufficio speciale per la ricostruzione, ordini professionali e costruttori. Mobilitazione per aumentare il personale dell'ufficio speciale, ha detto il Sindaco, che è quello il vero problema, cioè una non adeguata strutturazione dell'USR per quanto riguarda le pratiche da smaltire. Poi c'è il suo appello. Servono risposte, gli spollati non possono più aspettare lungaggini burocratiche, indecisioni politiche e pastoie tecniche. E ancora ATER, primo progetto per Colle Atterrato. Il commissario Nicola Salini annuncia l'abbio del recupero di una palazzina in via Adamoli, lavori prima dell'estate. Andiamo ancora avanti e leggiamo l'accordo, il protocollo d'intesa, sto scritto da ASL e panificatori, meno sale nel pane, stilato appunto il protocollo d'intesa con le associazioni di categoria. Obiettivo è prevenire l'insorgere di malattie cardiovascolari croniche, per cui cambierà la proporzione di sale per dosi di farina. Ancora vendeva pesce non tracciato, maxi multa da 4.500 euro ad una pescheria teramana, pesce fresco messo in vendita con etichette carenti di informazioni sulla tracciabilità, in alcuni casi senza nessuna indicazione sulla filiera. Ancora il furto di dolciumi nella ditta di Campitelli, i ladri prendono di mira lo spaccio aziendale di notaresco dell'azienda del patron del Teramo Calcio. Nella zona di Cortino, ancora un'altra notizia di cronaca, raccoglie 43 kg di funghi senza tesserino, fermato e multato. I militari della stazione Parco di Cortino, dopo aver bloccato l'uomo in zona 1 del Parco Nazionale Gran Sasso Laga, hanno proceduto ovviamente all'elevazione di una sanzione e alla confisca di ben 43 kg di funghi appartenenti a specie diverse. Ancora andiamo a vedere l'altra questione, quella che riguarda i fondi della Casa dello Studente, fondi indisponibili in realtà. Berardini, chiamo subito i due ministri, il caso dei 3 milioni spariti per il recupero dell'ex rettorato, oltre al deputato del Pentastellato, si mettono a disposizione Core e Maranella e poi il gruppo di Gatti, che rinnova le cariche, Quintiliani e il nuovo coordinatore di Futuro In. E quindi nel corso di un incontro che si è svolto giovedì è stato formalizzato il nuovo direttivo. Quindi il nuovo coordinatore Giovanni Battista Quintiliani e vice coordinatori Valerio Pelusi, Caterina Provvisiero e poi tanti gli altri i nomi, ognuno con un settore specifico di azione nell'ambito delle esigenze cittadine, dalla sanità al sociale, a recuperare i contatti con il territorio, alla sanità appunto. E ancora, mercato del lavoro, servono soprattutto professioni tecniche, convegno su orientamento ai giovani, promosso dal Vescovo, richiesti ingegneri, specialisti gestionali e informatici. E quindi è questo ciò che è emerso dall'incontro che si è svolto ieri, Camera di Commercio, e che ha visto la partecipazione di esponenti e dirigenti del Ministero del Lavoro e dell'AMPAL, e non solo, anche del Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca Scientifica. Un convegno fortemente voluto dal Vescovo della nostra diocese, della diocesi di Teramo e Atri, di Monsignor Lorenzo Leuzzi, e quindi la grande connessione, stretta connessione che c'è tra scuola, università e lavoro sotto diversi punti di vista. E ancora andiamo a vedere un'altra notizia truffa con le missioni. Processo al maresciallo, stiamo parlando di giudiziario, il carabiniere accusato di aver attestato falsi servizi esterni per avere indennità, respinta alla richiesta di riunire il procedimento con quello del Tribunale Militare. Ateneo, due giorni su sicurezza e tecniche di difesa, Delta Defense, l'associazione che ha creato questo evento, dedicato alla possibilità e alla capacità di fornire degli strumenti atti e concreti, a difendersi dalle aggressioni quotidiane, soprattutto per i soggetti più deboli, dagli anziani ai bambini alle donne. E ancora, per quanto riguarda un'altra notizia di giudiziaria, che devono rispondere di abuso d'ufficio a Palti Ater, prima udienza per Di Timoteo e Pierangeli. C'è stata la prima udienza per quanto riguarda l'abuso d'ufficio. L'accusa è questa. Montorio, mio padre, un modello per tutti, Caterina Chinnici incontra gli studenti e parla della lotta alla mafia. Andiamo ancora a vedere le notizie della Val Vibrata. Schiaffi agli alunni, professore a processo, insegnante di Corropoli accusato di abuso di mezzi di correzione. I fatti contestati avvenuti in un'altra scuola media. Ancora, Nereto, lotta all'evasione, comune via recupero di 300 mila euro di IMU. Ancora incontro a Torano, la Lega presenta Di Matteo, candidato per le regionali. E poi l'ANAS che pota agli alberi lungo la 259, le chiome della strada 259 a Santomero. Andiamo ancora a sfogliare gli altri titoli. Ecco qui di Alba Adriatica, il centro di accoglienza di Alba, operatori senza stipendio. Ieri, appunto, la protesta sotto la prefettura dei dipendenti della ONLUS GUS 15 su 35 si sono licenziati per i mancati pagamenti. Ieri, incontro in prefettura, esitino di protesta. Devono assistere ben 270 migranti e sono tre mesi attualmente che hanno arretrato lo stipendio. A Martinsicuro siamo una delle città più pulite. Comune, guardie ambientali replicano alle accuse di città attiva. Andiamo a leggere gli altri titoli che riguardano Giulianova. Assemblea del Comitato Genitori serve un nuovo polo scolastico. Istituto Comprensivo 1 all'orientamento prevalente e di realizzarlo ex novo nell'area dell'ex tribunale. Il presidente Panizzi, progetto centrale non solo per le esigenze della scuola, ma di tutta la comunità. E poi, lavori fermi, ancora tempi lunghi per la riapertura dell'elementare di Colleranesco e il furto in via Battisti rubata un'altra bicicletta da corsa. Questa volta i ladri portano via una pinarello da 7.000 euro. Ecco qua, la bici da corsa rubata. Per quanto riguarda l'atletica, Giulianova Ecologica G, un anno di successi dopo le buone prove dei giovani, anche quelle del settore master. Ancora, ecco il progetto del distretto sanitario. Sarà un mini ospedale. La presentazione del nuovo distretto sanitario a Roseto, siamo, sorgerà in piazza Marco Polo su un'area di 4.200 metri quadri, avrà radiologie, ambulatori e una residenza per anziani. E ieri appunto la presentazione alla quale era presente ovviamente anche il direttore generale dell'ASL di Teramo, Roberto Fagnano. La polemica noi talebani, il sindaco si scusi, Pavone replica di Girolamo dopo l'accusa al gruppo Roseto. al centro e ancora a Montepagano i cittadini che puliscono le carditoie. Ancora andiamo a leggere gli altri titoli e vediamo quali sono i titoli, eccoci qui, che riguardano altri Pineto e Silvi. Pineto teme l'erosione con i lavori al porto rossetano. In consiglio approvata la mozione per l'apertura di un tavolo con i due comuni da scongiurare il rischio che le barriere a mare danneggino la costa pinetese. E poi il progetto approvato dall'amministrazione Silvi via libera la riqualificazione di piazza Nenni. Atri nasce il circolo della Lega febbraio nominato reggente. A Pineto i 5 stelle la giunta ha alimentato tasse e debiti. Anche Pineto aderisce all'ASMEL sulla gestione degli appalti. Anche il comune dopo quello di Silvi scongiura la paralisi degli appalti aderendo all'ASMEL. Ancora andiamo avanti e vediamo l'apertura di Pescara il titolo principale allarme dopo i crolli Pineta 400 alberi a rischio controlli in tutta la città. La riserva chiusa dal 16 ottobre sarà riaperta al pubblico entro fine mese. L'assessore Marcheggiani il parco rimarrà inaccessibile in attesa del termine delle indagini per tutelare l'unità pubblica e il patrimonio verde. Andiamo a leggere altri titoli sui devoti da tutto l'Abruzzo. S'annunzio con Laureola a Malia anche popoli. Processione di fedeli per tutta la settimana nella chiesa di San Francesco e domani alle 16 la processione e il ritorno poi della teca a Pesco a Pesco Sanzonesco. Vediamo qui le immagini di tutti i devoti. E poi gli studenti in visita nelle aziende e le scolaresche in visita alle aziende del territorio. L'apertura di Montesilvano incontro al Paladin Martin la modella sfregiata dall'ex ragazze denunciate Jessica Notaro a confronto con gli studenti del Dascanio e dell'Istituto Tecnico Alessandrini fate attenzione alla violenza psicologica di chi vuole farvi sentire sbagliate. E ancora le statistiche per il 2018 i dati allarmanti in sei mesi uccise in Italia 44 donne vediamo qui ritratta la criminologa Monica Di Sante. Ancora Dog Village Onlus Protezione Animali Festa del Gatto Nero oggi e domani al Parco della Libertà. Ancora andiamo a vedere l'apertura di Chieti la sanità nuovi servizi sul colle 12 ambulatori torneranno in centro investiti 758 mila euro nell'ospedale di via Valignani l'assessore Paolucci lavori a gennaio dopo i problemi burocratici e poi il violentatore fa scena muta dal giudice Ortona aggressione in spiaggia il Somalo non risponde al GIP la donna resta in ospedale Rapino in villa c'è l'interrogatorio mai è entrato in quella casa ero il palo Lanciano il giovane arrestato in Romania respinge le accuse non sono io il capo gang e non sarei tornato da papà per fuggire sono queste le dichiarazioni di Marius Adrian Marti nel 34enne rinchiuso da 4 giorni nel carcere di Rebibbia dopo essere stato estradato dalla Romania fuggito nella sua terra d'origine il giorno dopo la rapina Aida nella villa dei coniugi Martelli era il ricordiamo il 23 settembre scorso e ancora ad Atessa Pellegrini su Piazzano dietro fronte del sindaco consigliere di opposizione accolta la nostra proposta di fermare i lavori nell'area ex gru andiamo avanti vediamo l'apertura dell'Aquila Università la ripresa i dati a confronto in Verardi le matricole riscoprono l'Aquila sempre di più gli studenti che scelgono di iscriversi ingegneria gettonatissima la rettrice sul trend positivo investimenti sull'orientamento e vediamo di quanto i dati a confronto c'è un più 41% di studenti che arrivano da fuori regione e vediamo qui tutti i dati nello schema riportato dal centro e la lettera di Liliana Segre agli alunni del Cotugno mai disperare un grandissimo esempio orecchie ben aperte di questa grande donna e ancora e oltre il 41% dei ragazzi proviene da fuori regione insomma una buona notizia finché c'è movimento nella città grazie all'università sicuramente è un segno un simbolo positivo l'inchiesta incidente nel parco sugli orsi morti c'è una denuncia inascoltata sei mesi fa la segnalazione di un'associazione ambientalista sparita la protezione attorno alla vasca e si cercano gli allevatori è ancora chiara la donna che ritrova il sorriso la storia il chirurgo marsicano Marianetti interviene sulla rarissima malattia della giovane pescarese la ragazzina che riconosce il suo violentatore siama la cronaca Bezzano confronto shock in tribunale lo stupro della 17enne nel tunnel della stazione ferroviaria ancora sul Mona sviluppi nell'inchiesta altri insospettabili nel giro dell'usura più professionisti avrebbero chiesto prestiti all'ex presidente Tonti e alla broker delle assicurazioni finite ai domiciliari e poi gli studenti bulli già espulsi dalla scuola a Roccaraso all'allontanamento dall'albertiero adottato subito dopo l'accertamento dei fatti e poi è stato bocciato il punto nascita di Sulmone il governo di Sulmona il governo della Lega ai 5 Stelle conferma la chiusura nonostante le tante rimostranze presentate proprio per evitare di chiudere il punto nascita di Sulmona e poi gli illeciti espulsi dall'Abruzzo 56 a Sinifoglio di via del comune di Lucoli devono tornare in Trentino andiamo a vedere quali sono le notizie principali che riguardano lo sport per quanto riguarda il centro andiamo immediatamente in serie B e vediamo un po' la corsa alla serie A ecco qua il parere degli esperti l'entusiasmo del Pescara sarà decisivo dirigenti allenatori e opinionisti televisivi in coro Pillon lotterà fino alla fine e se a gennaio arriverà un bomber ecco qui la Coppa Italia primavera Bianca Azzurri eliminerà Nati il Sassuolo vince 2 a 1 segnando il gol decisivo in pieno recupero e ancora andiamo a vedere gli altri titoli del sole fissa l'obiettivo una maglia da titolare l'attaccante napoletano arriverà al mio momento Pescara Bond troccata quota 2,3 milioni di euro ancora andiamo a leggere in serie C il diavolo bacio Terracino Latita il Teramo ha bisogno dei gol del suo bomber l'attaccante Biancorosso a secco da un mese e mezzo e cerca il riscatto nella trasferta di domani insieme alla Vecomp Verona ancora in promozione a Santomero si dimette il tecnico calabrese e vanno via 6 giocatori in panchina Ciarrocchi la Venzano valuta Fanesi come consulente e potrebbe far ripartire Bianciardi ancora andiamo in basket di serie A2 Est domani in campo Roseto Nicolic pronto a rientro il play serbo disponibile per la trasferta di Udine l'ex genovese temo i giovani degli Sharks e ancora in serie B Chieti prepara la trappola al Senigallia seconda gara consecutiva al Palatricalle Sorgentone mi aspetto conferme e i biancorossi di scena al Pala Elettra l'Amatori vuole il Tris Ancona nel Mirino Pescara a caccia del terzo colpo di fila Oti niente distrazione e palamano di serie A2 Lions Teramo torna in campo e sfida la capolista Masca Lucia ancora Adriatica Presc Teramo ai dettagli per la Lachecovic quindi ancora trattativa calda andiamo ancora avanti e vediamo se ci sono altri titoli sì per quanto riguarda il volley di serie A2 la SIE con un vuole fermarsi Lanci pronti per la battaglia in pavida Ortona rivitalizzata dal successo ottenuto contro Catania domani alle ore 18 ospiterà la Pool Libertas Cantu Zanettin e ancora KO e in serie B oggi in campo Giulianova e Coget domani Altino e Orsogna abbiamo finito no ancora c'è il calcio a 5 la Quessapone sfida il Lida per sperare nel miracolo oggi in Repubblica Ceca l'ultimo atto dell'Elite Round di Champions ai nero-azzurri serve una vittoria il KO del Kairat per approdare alla Final Four e poi europei FIFDS l'Ital Futsal conquista la medaglia d'argento ancora e tiro con l'arco il gota della Fitarco fa visita al club Arceri Abruzzo e quindi abbiamo concluso anche per il centro mandiamo qualche minuto di pubblicità e torniamo con i titoli del messaggero d'Abruzzo a tra poco eccoci qui bentornati andiamo a leggere immediatamente i titoli principali del messaggero d'Abruzzo che apre con gli schiaffi agli alunni il professore accusato a giudizio per abuso dei mezzi di correzione e percosse un docente di una scuola media della Val Vibrata in classe violenze fisiche e verbali le indagini dopo i racconti degli alunni e poi sotto la testata per quanto riguarda il calcio in realtà è la notizia che riguarda il patrono Luciano Campitelli svaliggiata l'azienda come abbiamo visto rubati prevalentemente biscotti e poi per quanto riguarda i motori belle notizie Iannone ultima con la Suzuki e Gabriele Tarquini che va verso il nuovo mondiale e in serie B Pescara Elisaide del Sole i nuovi talenti pronti a entrare e verso le elezioni cento sindaci invocano Legnini c'è l'accordo e entro la settimana si dovrebbe avere l'ufficializzazione l'abruzzo al voto appunto in arrivo l'appello per Legnini l'annuncio del segretario del Partito Democratico di Sabatino che lavora al programma giorni l'ex vicepresidente del CSM scioglierà la riserva sulla candidatura e ancora la mamma orsa morta con i due cuccioli parco nazionale senza potere sulle aree di tutela esterna l'apertura di Pescara baby gang l'altra verità sul pestaggio è la giunta che approva il bilancio debito ridotto di 9 milioni e ancora andiamo a vedere l'apertura che riguarda l'Aquila e i topi di appartamento in silenzio per proteggere i loro complici i due albanesi si abbalgono della facoltà di non rispondere davanti al magistrato riconsegnata la refurtiva a sei proprietari ma si sospetta che ci sia una vera organizzazione veramente una grande recrudescenza di furti per quanto riguarda ancora l'Aquila il torrione sarà svelato il giallo storico affidati lavori di restauro gli esperti verificheranno se custodisce delle tombe romane o se dell'età medievale l'archeologo Stefano Redi che dice è possibile che ci sia lo snodo delle acque riconducibili alla mitica Claudia Nova bello vediamo che cosa che cosa succederà ancora andiamo a vedere i titoli per quanto riguarda Vezzano e Sulmona e Foundry futuro incerto dopo il summit la CGL giudica l'incontro deludente e l'azienda chiarisce i motivi della crisi il sindaco De Angelis si dichiara fiducioso e ancora andiamo a vedere l'apertura di Chieti di premio che si richiama all'unità se no siamo pronti a rivotare l'ha scritto nero su bianco in una lettera anche a nome di giunta e di maggioranza la riunione in programma stamattina invitati pure tutti i rappresentanti dei partiti il comune di Chieti nel caos ancora Lanciano vasto Ortona imprevedibile quella violenza in spiaggia Margherita Barone presidente del centro antiviolenza Daphne di Lanciano commenta l'atto del somalo sulla 68enne a Ortona e ieri il 20enne migrante si è abbalzo della facoltà di non rispondere l'apertura di Teramo ricostruzione lenta scatta il piano assunzioni il sindaco d'Alberto siamo in ritardo ci sono 4.000 sfollati in attesa prima riunione del tavolo tecnico sottovalutati a livello nazionale e Remo Bernardi il nuovo dirigente dell'ufficio tra le proposte c'è quella di coinvolgere tanti altri centri e in proposito mandiamo proprio l'intervista che abbiamo fatto ieri al sindaco Gian Guido d'Alberto sul primo tavolo operativo permanente che raccorda l'azione dell'amministrazione con tutti gli attori coinvolti a vario titolo nel processo di ricostruzione post-sisma e ci rivediamo qua tra poco Sindaco prima riunione del tavolo operativo permanente quello che era stato promesso durante la campagna elettorale stanno diventando dei fatti concreti le tante associazioni che hanno portato avanti la battaglia per mantenere viva l'attenzione sulla ricostruzione effettivamente trovano riscontro nella sua volontà sì un tavolo operativo primo tavolo ma che vuole essere permanente e sarà un tavolo a mio avviso fondamentale proprio perché sarà prettamente di carattere tecnico proprio per affrontare con tutti i soggetti diciamo così della ricostruzione oltre che l'ufficio speciale l'istituzione e tutte le associazioni delle imprese dei professionisti affrontare quelli che sono i problemi più gravi più significativi e le criticità che di fatto hanno bloccato impedito un processo di ricostruzione che sul nostro territorio ha mostrato tantissime lacune io direi che proprio tutto il modello di ricostruzione che è stato impostato per il nostro catare sismico ha dimostrato delle lacune possiamo dire con grande franchezza che il modello di ricostruzione del nostro territorio è letteralmente fallito è stato fatto un censimento di tutti diciamo tutti i soggetti che sostanzialmente parteciperanno a questo tavolo permanente quanti ne sono e come poi si raccorderanno le varie posizioni perché magari ci possono essere anche delle posizioni divergenti sono tanti ovviamente ci sarà un'ulteriore integrazione al prossimo tavolo aggiungeremo integreremo il prossimo tavolo con la partecipazione dell'Ater e del Genio Civile quindi sotto il profilo istituzionale ma ci sarà anche un allargamento a tutte le associazioni della partecipazione che daranno il loro contributo è chiaro che il tavolo vuole essere operativo quindi non è finalizzato a un dibattito sterile ma è finalizzato ad affrontare le questioni e le problematiche relative al sisma e a consentire anche di fare delle proposte poi all'interno dei tavoli istituzionali del comitato istituzionale questa è una cosa a cui tengo molto cioè anche io come sindaco sindaco della città capologo di provincia vorrei anche allargare agli altri comuni agli altri enti perché ovviamente questo è un tavolo al servizio di tutto il cratere sismico e mi limiterò a svolgere un ruolo di facilitatore di un dialogo che deve essere strettamente operativo perché vede uno dei problemi di questa ricostruzione è stato proprio questa spesso la costruzione di tavoli ibridi politici politico-tecnici che poi non hanno portato a nulla quindi ci sarà una sfera politica-istituzionale che andrà avanti e quella tecnica dove si affronteranno i problemi concreti è chiaro che l'abbiamo detto anche oggi al direttore dell'USR il problema dei problemi è senza ombre e dubbio l'ufficio speciale per la ricostruzione che ha una situazione di personale ancora drammatica che di fatto è bloccata quindi va riattivata va riorganizzato nel complesso e poi c'è la questione relativa di cui si è parlato anche oggi relativa all'ipotesi e l'opportunità di trasferire l'esito delle pratiche della ricostruzione leggera ai comuni ho nuovamente ribadito quello che è il nostro pensiero il mio pensiero cioè secondo cui un'ipotesi del genere è ammissibile solo a patto che ci sia un forte potenziamento del personale al servizio dei comuni e ci sia uno snellimento procedurale altrimenti il rischio potrà essere quello di passare dalla padella alla braccia comunque di questi temi parleremo anche all'interno del Consiglio Comunale Esterordinario che come è noto vogliamo svolgere entro la fine di questo mese o comunque i primi giorni di dicembre eccoci qui andiamo a leggere qualche notizia principale che riguarda lo sport per quanto riguarda il messaggero d'Abruzzo Teramo partenza Mara ride nel negozio del Patron ladri nazioni da Saporiveri Campitelli presi prodotti alimentari Maurizzi ancora dei dubbi per quanto riguarda proprio la squadra del Teramo Calcio perché affiancherà Bacio Terracino davanti e poi le prove libere Iannone sesto nell'ultima con la Suzuki Iannone dopo la delusione in Malesia è pronto ad approdare all'Aprilia per cui queste ultime prove libere in sella alla Suzuki per puntare poi a vincere il mondiale con l'Aprilia e poi Gabriele Tarquini che si giocherà il titolo il ridato del VTCR per vetture e turismo nell'ultima gara di campionato in programma domenica sul circuito cittadino di Macao il pilota di Giulianova al volante della sua Hyundai si presenta da leader nel campionato iridato quindi un grande in bocca al lupo a Gabriele Tarquini per quanto riguarda la pallannuoto oggi in acqua punteremo sui giovani e tutto anche per il messaggero vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità e l'inizio e qualche pezzo del documentario che poi andremo a spiegare bene con il filmmaker Manuel Norcini il Nepal con Living Nepal e Diana Budd tra poco di l'info di di l'info di l'info Grazie a tutti. Buongiorno e benvenuti nella seconda parte del Prima di Tutto con queste bellissime immagini che rappresentano, sono un pezzo, sono piccoli pezzi del documentario, del docufilm Dhani Abad dell'associazione Living in Nepal e oggi abbiamo qui con noi il filmmaker Manuel Norcini. Ciao Manuel, buongiorno e benvenuto al Prima di Tutto che ci spiegherà insomma come si è sviluppato questo progetto, che cos'è questo progetto, che cosa vuol dire la cooperazione, che sensazione si ha nel momento in cui si va a fare qualcosa per le persone, a creargli gli strumenti per poter crescere loro stessi. Ok, a te la parola e noi ti sentiamo molto molto volentieri. Sì, Dhani Abad è un progetto che nasce, l'idea quanto meno nasce verso gli inizi del 2017, quando ho conosciuto Sara che è uno dei tre fondatori di Living in Nepal. Living in Nepal nasce appunto subito dopo il terremoto del 2015 e appunto Sara e Paul, che sono due dei tre fondatori, si trovavano lì durante il terremoto, quindi sono sopravvissuti. e diciamo che come forma di ringraziamento, ecco, per restituire qualcosa comunque al popolo nepalese che li ha accolti, hanno deciso di fondare questa associazione e di tornare sul campo a dare il loro contributo. Io ho conosciuto Sara alla fine del 2017 e poi parlando è venuta fuori l'idea del documentario, che in realtà Sara già aveva da diverso tempo e quando poi lei mi ha proposto, mi ha fatto quella domanda vuoi venire con me e torniamo in Nepal? Io gli ho detto di sì, insomma così, diretto. Quindi da lì è nata l'idea. Poi il documentario, diciamo che la natura del documentario è stata un po' particolare, perché io non ero mai stato in Nepal prima, quindi non conoscevo il territorio, non conoscevo bene la cultura, anche se l'ho stato in India nel 2015, però comunque in Nepal, seppur sia un paese vicino che confina, è comunque diverso. Quindi ci siamo ritrovati a iniziare questo progetto senza sapere esattamente come volevamo realizzarlo. Avevamo chiara l'idea, il messaggio, che era quello appunto dell'aiuto diretto, della solidarietà e dimostrare un modo diverso di aiutare. Che cosa era successo dopo il terremoto? Diciamo che loro, insomma comunque, voglio dire, è vero, un terremoto è comunque un'esperienza terrificante, però sono zone che non hanno dei grandi insediamenti, insomma ovviamente hanno una condizione completamente differente per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo. Il Nepal comunque quando ci fu il terremoto si trovò abbastanza nel caos perché non è un paese, non erano organizzati per affrontare un'emergenza del genere, quindi c'è stato un grande caos in cui ci si è dovuti un po' arrangere da soli, soprattutto nelle zone in cui si trovavano loro, si trovavano nella valle, indicativamente nella valle dell'Hantang, che è uno dei trekking anche diciamo più conosciuti in Nepal, però diciamo che per una settimana sono rimasti soli ad aspettare i soccorsi. E se non fosse stato per i nepalesi, per la popolazione, magari non si sa insomma se ce l'avessero, se ce l'avrebbero fatta. Infatti, una cosa veramente drammatica, tragica. Hanno condiviso con loro tutto, cibo, vestiti, riparo, tutto. Quindi la prima cosa che gli è venuto in mente di fare, una volta poi tornati, è stata di raccogliere il massimo che si poteva in poco tempo e di tornare direttamente. Così hanno fatto. Quando sono partito con loro poi ho avuto anche modo di conoscere, perché ho lavorato anche come volontario insieme a loro, in diversi progetti nelle zone rurali del Nepal. Questo mi ha anche permesso di entrare molto più facilmente a contatto con la loro cultura, con le persone, perché comunque in qualsiasi posto, se vai da turista, c'è sempre quella fase iniziale di dover superare, che è appunto quell'ostacolo in cui le persone locali ti vedono come un turista. Qualcosa di esterno ovviamente, invece tu che sei un filmmaker e devi ovviamente riportare in immagini e raccontare la loro verità, la loro realtà, è chiaro che devi entrare in una comprensione e in un'empatia probabilmente completamente diverso, quantomeno metterti in capacità comunicativa con loro, esatto, e capire che tipo di linguaggio, al linguaggio a 360 gradi, ovviamente utilizzano. E quindi che cosa hai scoperto? Perché poi ovviamente queste immagini raccontano la loro realtà. Quello che abbiamo voluto raccontare è appunto un Nepal che si sta rialzando. Non è un film che ha un'impronta negativa o che vuole sfruttare la tragedia del terremoto per suscitare qualcosa nel pubblico, ma è il contrario, è un documentario che ha una visione positiva, in cui vediamo appunto questo popolo che reagisce e che comunque sta reagendo bene. Vediamo il contributo che le piccole ONG stanno dando sul campo. Ci siamo concentrati sulle piccole ONG perché oltre che living in Nepal, nel documentario sono presenti altre due piccole organizzazioni, sempre spagnole, che operano in modo diretto. Non operano molto con numeri e statistiche, ma più con persone. Quindi vanno nel posto, chiedono direttamente alle famiglie quello di cui c'è bisogno e si collabora per riuscire a far fronte a quei bisogni. Però è uno scambio, non è un approccio distaccato, ma è un approccio in cui il turista, che ormai non è più un turista, ma è un viaggiatore, si approccia a quella realtà in modo... ci si immerge totalmente. Noi stessi, noi stessi ci alzavamo la mattina e andavamo... Quanto tempo siete stati? In totale siamo andati due volte, la prima volta nel 2017, la seconda nel 2018 e siamo stati la prima volta quattro mesi, la seconda quasi tre mesi. Beh sì, sono dei viaggi lunghi, appunto, ribadiamo, bisogna comunque entrare in contatto, rompere quello schema di pregiudizio, che magari io comunque di allerta, insomma, forse di diffidenza ma neanche, qualcosa di esterno proprio, qualcosa di esterno che si può percepire. Si deve avere il tempo. Esatto, esattamente. Se riusciamo a vedere qualche altro pezzo del docufilm, poi facciamo vedere qualche altro pezzo e poi parliamo di... No, ok, va bene, non fa niente, noi però dobbiamo raccontare poi di quello che voi siete riusciti a produrre e come l'avete organizzato per farlo conoscere a tutti noi, perché siete partiti da, insomma, da un po' di tempo, da poco tempo fa, però, insomma, dai primi di novembre c'è stata una mostra. Raccontaci. Sì, allora, innanzitutto la realizzazione del documentario in sé è stata già un'altra avventura. Direi, ci credo. Nel fatto di essere partiti c'è stato anche il fatto di realizzare un documentario con pochi mezzi, perché siamo partiti con quei pochi mezzi che avevamo, con la mia videocamera, Cavalletto, altri due volontari dalla Spagna che lavorano anche nel campo e abbiamo provato, diciamo, ad organizzare delle riprese, solo che il Nepal, un po' anche per sua natura, è ostile all'organizzazione, al concetto di organizzazione, quindi è stato... Ti devi arrangiare. Ti devi arrangiare. Ti devi arrangiare. È stato tutto un susseguirsi di cambiamenti su cambiamenti. Sì, poi, ecco, dopo tutti questi mesi siamo tornati in Italia, abbiamo rivisto tutto quel girato che era tantissimo e abbiamo cominciato a montare. Quindi, diciamo che il film nasce effettivamente nella fase di montaggio, in cui abbiamo preso tutte quelle immagini e gli abbiamo cominciato a dare un senso, un filo conduttore. Perché prima di scremare tutto ciò che serve, quello che può essere, credo che voi, ovviamente, incameriate talmente tanto di materiale, sì, sicuramente, che poi per rielaborare e dargli una continuità, credo che ci voglia, insomma, parecchio, parecchio, senza dubbio, sì, non immagino. Parecchio tempo passato davanti agli schermi a dire questo sì, questo no. A valutare, a ripensare, sì, sicuramente. Perché poi voi sapete quello che avete colto e quello che è giusto poter poi trasmettere a chi vede. Sì, nel modo un po' più autentico. Infatti. Sì, il documentario comunque, diciamo che è un mix, è un prodotto che non è qualcosa di classico, magari. Ecco, non è un documentario che ti guida, non sei molto guidato all'interno del documentario. Questo è voluto, nel senso che il documentario è un mix tra parti in cui diamo spazio solamente alla cultura e alle immagini di quel paese e altri, diciamo, un'altra parte che è dedicata invece alle ONG, all'organizzazione, alle interviste. Quindi, quando veniamo guidati nel documentario è sempre attraverso la voce di chi è sul campo a dare il contributo. Quindi, in questo caso, dei fondatori delle varie organizzazioni che comunque ci guidano nel percorso, quindi ci fanno capire qual è il loro modo di lavorare, quali sono i loro principi, cosa stanno facendo e come hanno intenzione di continuare ad aiutare. Operare. Operare. Però, nei pezzi in cui c'è solamente cultura, c'è solamente Nepal, escludendo le ONG, non c'è nessuna voce fuori campo, non c'è nessun narratore esterno, non c'è niente che ti possa in qualche modo aiutare, non c'è una scorciatoia, perché poi il Nepal è così. se decidi di approcciarlo da viaggiatore e meno da turista, è un Nepal che devi vivere, per capire. non ci sono guide, è tutto molto sensoriale. credo che sia proprio il decidere di avere quella meta come scelta di un viaggio, sia sicuramente senza ombra di dubbio appannaggio di chi viaggia, di chi ama il viaggio e non di chi va a fare il turista, perché chi sceglie il Nepal è ben consapevole del territorio, di quello che c'è, quindi vorrà impattarsi proprio con quel tipo di realtà, quindi non un turista ma sicuramente un viaggiatore. Dovrebbero essere arrivati dei messaggi, se riusciamo a leggerli, vediamo che cosa ci scrivono i nostri telespettatori, dai docufilm al concreto aiuto che si volesse portare al Nepal. Cosa bisogna fare? Quello che si può fare è quello che si può fare anche qui, nel senso che non c'è... in realtà il documentario è solamente un esempio di quello che si potrebbe fare in qualunque parte del mondo, anche dentro casa. Aiutare non vuol dire rendere dipendenti da te qualcuno, ma aiutare vuol dire portarlo all'autosufficienza, cioè il... Trasferire il knock-out si direbbe, ma in realtà è dare conoscenza. Dare conoscenza, sì, come dice... Parliamo in maniera più semplice, nel senso che è un'educazione a... Infatti, infatti, infatti il documentario poi alla fine va a finire nel campo dell'educazione, cioè che cos'è l'educazione. L'educazione ha tantissimi aspetti, però tra tutti i suoi vari significati c'è anche questo, il fatto di trasmettere la tua conoscenza ad un'altra persona, in modo che questa persona poi possa risolversi i problemi in maniera autonoma. Certo, e voi lo state facendo? E' quello che stiamo cercando di fare. Comunque, adesso live in Nepal, lavoro lì da circa tre anni. Eh, tre anni, insomma. Il tempo per rendersi conto è quello di cui hanno bisogno, probabilmente. Sì, il Nepal è un paese che ha sempre bisogno... Eh, sicuramente. ...comunque dei suoi tempi. Però lo scopo non è quello di rimanere lì per sempre. Comunque lo scopo è quello di, a un certo punto, andarsene, lasciarli con quello che io ti ho insegnato, anche quello che loro hanno insegnato a loro, perché poi c'è uno scambio, e renderli autonomi. Poi, insomma, gli inverni sono belli rigidi, insomma, c'è una condizione... Eh, insomma, non credo sia una cosa facile, perché che tipo di rapporto si instaura con gente così differente da noi? Quindi, come si fa a interpretare quello che magari per noi è un bisogno primario, invece per loro non lo è, e cosa si può individuare di elementare che possa realmente fornirgli ciò di cui hanno bisogno nell'immediatezza? Questo, allora, questo è uno degli ostacoli che si devono superare quando si arriva in Nepal, perché la prima cosa che si deve un po' capire è che loro hanno un tipo, hanno una cultura totalmente diversa dalla nostra. E certo. Cioè, noi siamo occidentali. Beh. Loro no. Loro hanno diverse priorità, hanno un modo di organizzarsi la vita, ma di concepire il futuro, il tempo in generale, che è diverso dal nostro. Assolutamente sì. Noi scandiamo il tempo in ore, loro lo scandiscono con la luce del sole. E già ti dico tutto, quando una volta chiedemmo a un uomo del villaggio, gli chiedemmo a che ora sarebbe andato a tagliare la legna, perché volevamo andare con lui a dargli una mano, lui non capiva la domanda. A che ora? A che ora? Perché a che ora? E alla fine abbiamo cambiato la forma. Quando vai a tagliare la legna? E lui mi ha risposto, è quando c'è il sole? E quando torni? È quando non c'è più il sole. Ed è logico, ed è logico, perché siamo noi, sì, è noi, il nostro mondo occidentale che ha... Una frenesia, una frenesia, assolutamente sì. Frenesia nei tempi, sì, sì, alla luce. Anche quando non dovrebbe esserci. Eh, infatti, purtroppo anche questo... Questo teoricamente è un po' contro natura, invece loro ancora stanno a quel modo di... Su questo si potrebbe aprire proprio veramente un... Sì, altre parentesi. Altre parentesi. Sicuramente, diciamo, la relazione con popoli di questo, che vivono la loro realtà in questa maniera, sicuramente è un arricchimento, perché comunque credo che fornisca la dimensione di quello che, insomma, ci si perde ogni giorno, magari poco alla volta per cui, a parte, che è fondamentale, insomma, l'aiuto che bisogna dare a queste popolazioni per i drammi e le tragedie che hanno, che devono, che vivono, purtroppo, che... e dalle quali però, credo, con dignità e come... e come si faceva magari nei tempi, no? Anche qui... Sì, esatto. Si cerca di andare avanti, insomma, di... insomma, di rimboccarsi le maniche... Esatto, come dicono da noi, ci si corcia le maniche e ci si dovrà fare. Infatti. Sì, sì, alla fine il Nepal, magari ecco, quello che dico sempre è che quando torno da questi viaggi, torno sempre con il portafogli scarico, ma con un tipo di ricchezza che poi però non può essere portata via, che è una ricchezza interna. Direi. Ed è la cosa più importante, credo, perché il fatto già solamente di rapportarsi con altre culture, con altri modi di vivere la vita, di vivere la giornata... Assolutamente sì, confronto sempre. Sì, ti dà un po' i mezzi per chiederti, per capire un po' anche in questa vita che cos'è veramente importante. Importante. Quando tutto sembra importante in realtà poi niente lo è davvero. Sì, esatto. Invece si perde proprio il senso di quello che è l'essenziale delle cose. Sì. Raccontaci però come sono andate le proiezioni che ci sono già state, come quella di Pineto. Allora, la proiezione di Pineto dell'undici è andata benissimo. Abbiamo avuto un riscontro incredibilmente positivo. La sala si è riempita, addirittura c'era qualcuno che non ha avuto il posto, è rimasto in piedi. E sono rimasti a guardarlo fino alla fine, quindi vuol dire che qualcosa gli ha trasmesso. Abbiamo ricevuto molte critiche positive riguardo il documentario. Io ovviamente è stata la prima volta che proiettavo un lungometraggio, il mio primo lungometraggio, quindi vederlo su uno schermo di un cinema fa il suo effetto per la prima volta, con così tante persone lì a guardarlo. Che bello. Ed è stato un po' il prendifiato. Il sudore raccolto, no? Il sudore raccolto, dice niente. No, siamo rimasti, siamo molto molto contenti di come è andata a Pineto. Speriamo che... E poi ecco c'è la prossima data, ricordiamo, perché insomma che la proiezione al Cineteatro Comunale, il 23 novembre, per cui la prossima settimana, esatto, Diana Bad di Living in Nepal, di Manuel Norcini, verrà proiettato al Teatro Comunale, per cui tutti a vedere questa grande testimonianza. Se si vuole vedere qualcosa di diverso, che parli un po' dell'aiuto inteso come qualcosa di diverso magari dal solito, e venite a vedere il film. Ci tengo a ringraziare le persone che hanno reso anche questo possibile. Perché questo progetto è vero che l'abbiamo girato in Nepal, ma poi lo abbiamo montato e post-prodotto qui a Teramo. E dalle musiche alla correzione del suono, la correzione del colore e tanti altri aspetti tecnici, tutto questo è stato possibile grazie a persone, amici, che hanno deciso di dare il loro contributo in maniera sincera. Ecco, che hanno rispecchiato in qualche modo anche loro il messaggio del film di Diana Bad. E senti Manuel, come si sviluppa poi Living in Nepal, proprio qui a Teramo, dove voi operate? Come fate a farvi conoscere di cosa avete bisogno, qual è la vostra attività? Allora, Living in Nepal è un'associazione che nasce a Barcellona, in realtà. Diciamo che qui in Italia esiste grazie appunto a Sara Pavone, che è di Pineto, ed è la fondatrice. La salutiamo Sara, che è di là, con Simone stanno vedendo tutto ciò che stanno facendo, no? Le regie che manovrano. Si, 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 manovrano tutto. Stanno facendo delle macchinazioni, per farci vedere. Ecco qui, infatti, vediamo l'immagine, il logo, esattamente. Living in Nepal si muove molto attraverso, comunque, i social network. Cerchiamo di organizzare, ecco, a volte abbiamo organizzato delle esposizioni fotografiche, come quella del 2 che c'è stata al Wide Open di Teramo, e attraverso, appunto, come ripeto, i social network. Chiunque voglia, magari, dare uno sguardo ai progetti in corso, o a quello che è stato fatto, può collegarsi o al sito internet, che è livingnepal.org, oppure può andare direttamente sulla pagina Facebook di Living Nepal. E lì sono riportati, appunto, fotografie, testimonianze. Si cerca di mantenere, comunque, aggiornato il pubblico dell'Europa, su quello che si sta facendo. Attualmente c'è un nuovo progetto in corso. Infatti, diciamo, anche nel documentario c'è un piccolo accenno a questo nuovo progetto, che è un progetto della Casa della Donna, che è un centro comunitario che verrà, che si sta costruendo già a Sia Brubesi, che è l'ultimo, diciamo, l'ultimo villaggio prima del trekking dell'Antang. E sì, hanno già buttato le fondamenta, quindi stanno già iniziando i lavori. Beh, insomma, sicuramente veramente dei bellissimi risultati, che nel tempo poi troveranno i loro riconoscimenti, come, ad esempio, attraverso proprio il documentario, il docufilm, che quindi vi invitiamo nuovamente ad andare a vedere, 23 novembre al Teatro Comunale, Dania Bad, Living in Nepal, con Manuel Norcini, Sara Pavone, che è di là e che salutiamo per la sua grande attività. Manuel, noi ti ringraziamo per averci fatto fare questo splendido viaggio e per aver spostato un attimo l'attenzione da quello che è, insomma, il bisogno sempre costante di avere qualcosa, di fare qualcosa, quando invece diciamo che il bisogno principale è quello di sapere che il tempo passa e il tempo è prezioso, e quindi bisogna tenerselo stretto e saperlo amministrare. Come diceva, c'era Gandhi, che diceva questa bellissima frase, voi occidentali avete gli orologi, ma non avete il tempo. Esatto, non posso aggiungere nient'altro. Buon lavoro, buon lavoro veramente, grazie, grazie mille. Noi salutiamo i telespettatori, vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento come sempre alle 14 per la prima edizione del Primo Piano, come sempre, buona mattinata, buon sabato a tutti. Fa freddo questa mattina, per cui copritevi, mi raccomando, non siamo in Nepal, ma quasi, le previsioni non sono positive. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci, grazie. Grazie a te ancora, veramente. Grazie a te ancora, veramente. Grazie a te ancora, veramente. Grazie a tutti.